amiche amici appassionati di grande ciclismo un nuovo appuntamento con scatto e stacco allora non sarà solo il mio compagno di viaggio questa sera a farci compagnia ma un ospite autorevole con il quale avremo modo di trattare diversi argomenti quindi penso che riccardo mi conceda il dovere di ospitalità saluto e ringrazio luca guercilena general manager del team little track ciao luca grazie buonasera a tutti ciao roberto ma non poteva mancare ovviamente riccardo ma grini è nel caso di luca doppia doppie referenze due amici che l'hanno interpellato e luca puntualmente ha detto sì lo ringrazio ancora riccardo che come va perché l'hanno interpellato anche te certo una dieta caro roberto e lo dico anche a luca che un po che non ci vediamo ma penso che a questo punto mi sa che ci toccherà non rinunciare le nostre vecchie birre dal nostro amico avvocato perché altrimenti il fisico non 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 si confà con la mia con il mio regime alimentare non è neanche una dieta ho già perso due chili te lo dico occhio perché potrei anche diventare un personaggio importante nella primavera addirittura luca questo va inserito nel tuo staff eh che quanti personaggi eh sì no vabbè al massimo se se continua a perdere peso così noi saremo nei corridori lo mettiamo nel devo insieme ai giovani mamma mia mamma mia io dico fortuna invece che si vede a metà diciamo la parte più invasiva a vive le tour vive le tour te la faccio vedere un po di più così almeno sei contento certo riccardo allora da dove cominciamo dobbiamo parlare di jonathan anche se in quel caso lì aveva ovviamente un compito di nazionale quindi un compito federale però eh jonathan finito alla grande eh tutto lascio spiegare che potrà cominciare il duemilaventicinque altrettanto alla grande con magari nuove ambizioni e nuovo consolidamento ti piace la domanda che ho portato a luca molto buona infatti sarei sarei partito da milano ma poi ce ne sono ancora altre che 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 insomma vorrei fare a luca perché è importante capire i programmi sicuramente no ma sicuramente finire la stagione con un record del mondo una maglia di campione del mondo è ottimo ehm per noi anzi è un piacere fornire alle nazionali gli atleti per le competizioni appunto che si corrono con la maglia della nazione e johnny puntava obiettivamente a questo a questo risultato ce l'aveva nei suoi obiettivi e siamo stati ben felici di supportarlo chiaro che vincere una maglia era qualcosa che eh ci aspettavamo senza senza fare nessuna ipocrisia certo il record del mondo era qualcosa che forse era un po' più inaspettato soprattutto perché eh i giorni prima mi erano arrivate informazioni che la pista non era così scorrevole così veloce fine stagione insomma tutta una serie di condizioni che magari avrebbero limitato la prestazione di per sé invece johnny ha dimostrato tutte le sue qualità per l'ennesima volta e insieme a una grande stagione su strada credo che abbia fatto anche una grandissima stagione su pista quindi dimostrando che è un atleta tut kurd che che può raggiungere risultati a mio parere ancora inaspettati dal punto di vista proprio della della capacità fisica che ha beh io lo vedo Luca un corridore eh molto votato anche a certi tipi di classiche perché effettivamente è un corridore forte potente veloce e ridurlo come molti fanno al al velocista mi sembra una una blasfemia te lo dico sinceramente io lo vedo proprio in un'occasione che ci siamo incontrati che avevo anche raccontato a Montecatini ebbe a dire queste cose e lo vedi contento è un ragazzo molto intelligente e e credo che insomma eh penso che anche voi ci puntiate su quello che ho detto sì ehm io se devo fare un paragone sugli atleti del degli ultimi diciamo dieci anni insomma comunque giù di lì anche venti ormai credo che quello a cui lui si possa rifare sia a tombone essenzialmente perché per potenza assoluta credo che abbia le caratteristiche per essere sicuramente molto competitivo negli sprint dove chiaramente è potente e una volta lanciato è difficile da battere soprattutto la strada libera e eh poi nelle grandi classiche perché senza dubbio anche lì sfruttando la sua potenza assoluta può fare la differenza o comunque essere molto competitivo anche sui muri delle fiandre piuttosto che sul sul pavè della rubè quindi ha già dimostrato anche quest'anno in certe competizioni stile Gandbev game o quant'altro quelle diciamo quelle semi classiche sono più in linea per i velocisti di essere competitivo poi il prossimo passaggio sarà quello per le grandi classiche dove sappiamo che ci vuole un certo periodo di adattamento cioè le grandi classiche del belgio non sono così semplici da vincere quando magari si sono fatte solo una volta bisogna cercare di di ripeterle nel tempo e lì si prendono le misure poi sicuramente può essere molto competitivo anche quel tipo di tipologia di corse infatti oggi sui social si leggeva più rubè che fiandre forse gli ultimi percorsi non lo aiutano rispetto a quelli classici di buon cancellare a michele bartoli però è uno che ha un'esplosività che proprio fatta proprio da muri mi confermi luca si diciamo che l'ultimo percorso del fiandre quindi con una serie di passaggi ripetuti sul sul vecchio quare mondel patersberg ovviamente può limitare relativamente voglio dire quelle che possono essere caratteristiche di un atleta veloce è anche vero che negli ultimi anni se si esclude la vittoria di pogaccio poi comunque sono stati uomini da classiche a a vincere come era come era in passato per cui secondo me nelle giuste condizioni può essere competitivo anche al fiandre è ovvio che la rubè essendo diciamo essenzialmente piatta e fatta proprio per gli uomini superpotenti può garantirgli con più facilità un risultato però credo che anche il fiandre o let volk o curne possano essere corse dove lui sicuramente è super competitivo senti luca ti voglio fare una domanda che magari non molti non hanno capito bene perché sai sono nazionali quindi la gara del mondiale è fatta per nazionali ma tu avevi tanti uomini nel finale questo skewings micidiale eh nell'ultimo questo ultimo mondiale eh avevate fatto una preparazione specifica per questo percorso anche vabbè insomma eh Pedersen lo lasciamo da una parte perché Pedersen è un fenomeno e tu me l'avevi detto in tempi non sospetti perché già quando vinse il campionato del mondo mi dicesti che questo era un un corridore però ecco la domanda è c'era una preparazione particolare mondiale perché avevate anche molle ma cioè molle ma come lo vogliamo chiamare il finale stagione è andato forte rispetto alla stagione deludente di tutta di tutta l'annata ma esattamente come hai detto tu diciamo che la nostra stagione è stata più che positiva ovviamente abbiamo avuto un'ottima primavera nonostante le cadute che ci sono state alla se non sbaglio dove comunque mezza squadra c'è si è fatta si è auto eliminata diciamo quella grossa caduta che c'è stata eh e poi abbiamo avuto l'handicap del tour dove a fronte di un una caduta di Tao che si è fatto male abbiamo dovuto toglierlo come uomo di classifica eh Pedersen che alla quinta tappa del tour è caduto ovviamente avevamo l'esigenza di fare un finale di stagione mh importante e per cui con i con lo staff appunto della performance eh abbiamo cercato di avere i corridori in buona se non in ottima condizione anche nel finale di stagione e per qualcuno come dicevi come Toms che è andato forte comunque tutto l'anno dalle strade bianche le olimpiadi e quant'altro a gente come come Bauke o lo stesso Giulio che comunque ha inseguito un po' la condizione eh durante la stagione eh sono riusciti appunto ad arrivare sul finale di sul finale ancora con discrete energie e forze soprattutto la motivazione che sappiamo che nella seconda parte di stagione è quella che è più importante e di conseguenza anche al mondiale su un percorso abbastanza impegnativo sono riusciti ad esprimersi bene credo poi che Toms abbia fatto veramente una una grandissima prestazione mi spiace che non ha vinto una medaglia ma davanti comunque tre grandi però ha fatto senza dubbio un ottimo finale di stagione io invece Luca vorrei dare spazio anche a Consonni perché insomma in pista è andato forte però eh per molti è considerato come apripista di Jonathan una sorta di croce delizia ecco dal tuo interno cosa ci puoi dire e molti incidono un po' sulla differenza di statura dei due statura fisica parlo altezza allora Simone è stata una bellissima sorpresa perché io sono sincero l'abbiamo preso proprio per tirarle volate con a Jonathan eh lui era consapevole che il suo ruolo sarebbe cambiato per cui diciamo da velocista di squadra eh doveva completamente dedicarsi a un capitano e questo l'ha fatto oltre questo abbiamo scoperto una persona che fa fa spogliatoio è sinceramente una delle sue caratteristiche principali e sa gestire comunque anche Jonathan che da buon velocista ha un carattere calmo ma esuberante in determinati momenti eh detto questo se si parla proprio della dello sprint di per sé io sono convinto che eh in questo momento la dinamica tra i due è ottima eh poi se si parla di differenze di statura sì senza dubbio eh in alcuni casi può essere una uno svantaggio ma stiamo parlando di quelle volate dove magari c'è proprio il vento contrario di conseguenza magari eh bisogna stare coperti fino proprio agli ultimi duecento metri però per il resto credo che mh per quello che abbiamo visto al giro e quant'altro sia un valore aggiunto sicuramente a a Jonathan volevo aggiungere una cosa su 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 Jonathan poi vorrei parlare anche di Cicco perché effettivamente ci ha fatto godere e credo che questo terzo posto a Lombardia gli possa dare un impulso importante per la stagione nuova no che finalmente sia una stagione senza guai senza problemi e quindi però su Jonathan io mi sembra che questo ragazzo a volte proprio come hai detto te sia troppo esuberante e e non riesca bene a capire a comprendere quando è il momento di andare o di non andare perché molte volte succede che rimane troppo scoperto a volte si scopre stupidamente anche in preparazione delle volate eh voi ci cioè glielo fate vedere perché è giusto anche far capire a chi ci ascolta che queste sono squadre non come una volta che c'era il direttore sportivo la macchina e cioè oggi anno prima parlava della performance ci ci sono staff precisi persone preposte alla preparazione persone preposte vabbè alla nutrizione si sa massaggiatori meccanici e tutto però anche il direttore sportivo credo che siccome ce n'hai nove mi sembra eh molti più dodici dodici ero rimasto a nove eh dodici sono direttori sportivi vai sulle tre squadre eh però noi studiamo la squadra sì poi guardiamo anche un attimo delle delle donne perché comunque anche sulle donne avete il terzo posto della Longo nel ranking e quindi mi sembra che sia giusto anche parlare della della Longo ma ecco ci ragionate su questa cosa o lo vedo solo io che sono un babbeo che racconta le corse e mi e mi arrabbio perché in effetti lo vedo spostare quando non deve spostare no come dici tu allora innanzitutto abbiamo uno staff dedicato che analizza gli sprint fa i video in anticipo per poi dare ai corridori tutte le informazioni necessarie per fare al meglio lo sprint concordato col direttore sportivo poi ci sono delle riunioni ovviamente post gara in cui cerchiamo di capire gli errori io penso che eh eh gli errori che ha fatto quest'anno Jonathan in alcune volate fondamentalmente sono dipesi dal fatto che è il primo anno che si trova a essere un leader assoluto e ha dei compagni nuovi perché è lo stesso con Sonny eh con cui corre in pista da anni poi in realtà è il primo anno che corrono insieme quindi le dinamiche sembrano facili da da automatizzare ma in realtà non non è così non è così eh basti fare un paragone con Phillips e Van Der Poel per quanto siano già anni che corrono insieme comunque commettono eh errori di di pari entità quindi lavoriamo sempre in quest'ottica è ovvio che Johnny secondo me per sprigionare la sua potenza deve arrivare lanciato eh a una discreta velocità eh per cui ehm è un po' nella nella sua indore cercare di trovare la strada libera e quindi magari qualche volta mettersi al vento un po' troppo presto di contro bisogna anche che la squadra poi raggiunga quei dinamismi e quegli automatismi tali in cui lui non debba poi preoccuparsi più di di dove posizionarsi ma trovarsi la strada aperta lanciato e lì credo che possa veramente poi esprimere tutta tutta la sua capacità però ripeto sono automatismi che necessitano non solo diciamo di tre mesi perché poi alla fine si parla di anni ma eh ha iniziato a lavorare con noi a dicembre e a febbraio già era a provare a vincere corse quindi stiamo parlando di un inserimento di due mesi dove comunque coi compagni di squadra che piaccia o meno si fa qualche allenamento specifico eh in ritiro e dopodiché ci si trova già le prime corse in corsa non sempre così facile né automatico eh concordare tutti i piani eh per pensare lo scenario migliore poi ovviamente sono anche gli avversari e quindi ogni scenario cambia però credo che nel corso del tempo poi queste cose si sistemino e si riesca a sfruttare tutta la sua potenzialità. Riccardo fa la domanda sul Ciccone che pone una io a carattere generale per Luca. Eh sì ehm sul Ciccone l'ho già fatto io credo che è d'accordo sul fatto che ho detto il terzo posto sia di 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 serenità per tutto l'inverno quindi Giulio sappiamo che eh la la cosa bella che eh Luca Guercilena la squadra insomma di Dottrec abbia creduto eh in Ciccone perché eh effettivamente insomma ne sono capitate tante comunque ancora lì e in ogni caso risponde. No volevo invece fare un accenno soltanto minimo alla squadra femminile perché comunque anche quella è una squadra importante. Ora tu eh l'anno prossimo andrà via eh Longoborghini però c'è una Gaia Realini che in prospettiva potrebbe essere una capitana. Sì allora se partiamo dalla prima parte domanda Giulio sicuramente ha avuto una stagione un paio di stagioni abbastanza sfortunate perché ahimè ne so qualcosa è stato già all'inizio colpito dal covid in modo pesante un po' se l'è trascinata e questo problemi che spesso gli incorrono poi dipendono anche da una debolezza generica eh però fortunatamente abbiamo avuto pazienza lui ha avuto pazienza e si è messo in gioco per la squadra al Tour de France cercando di fare classifica eh ottenendo un undicesimo posto che sicuramente non soddisfa né noi né lui però alla fine eh è anche vero che abbiamo cambiato le 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 carte in tavola all'ultimo momento. Detto questo il finale di stagione l'ha fatto bene eh ripeto arrivando con una condizione relativa però alla fine a Lombardia ha fatto un bel numero e quindi per l'inverno si si partirà col piede giusto. Per quello che riguarda il settore ferminile che per noi a questo punto è è abbastanza evidente sia una parte fondamentale del team credo che eh Elisa Longoborghini quest'anno abbia fatto dei dei grandissimi numeri ai noi ci lascia però eh sempre in buoni rapporti e auguriamo il meglio abbiamo come hai detto Gaia Realini che sta gradualmente crescendo per ora mh ha avuto i gradi di capitano eh in un paio di occasioni specialmente al Tour de France dove comunque ha finito quinta eh e sta è ancora una fase di di progressione quindi senza dubbio può arrivare a eh dei risultati importanti anche perché lei è arrivata da noi diciamo acerba perché arrivava comunque dalla squadra di di Giovanni Fidanza che l'ha seguita benissimo nella sua crescita non l'ha mai stressata e quindi un processo di crescita che sta continuando. Abbiamo Elisa Balsamo che tutti conosciamo e una delle migliori velociste al mondo eh secondo me gradualmente diventerà anche lei una un'atleta non solo veloce ma anche importante nelle classiche e poi abbiamo fatto tutta un'altra serie di inserimenti all'interno del team per essere sempre competitivi quindi da Rianne Marcus a a Fischer Black Anna Anderson insomma abbiamo 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 completato la squadra in modo abbastanza positivo devo dire che l'anno scorso abbiamo inserito sei ragazze under ventidue quindi è ovvio che abbiamo necessità di tempo per far sì che queste arrivino a un certo livello però la la squadra è sicuramente competitiva e per noi è assolutamente una uno dei pilastri per per essere vincenti. Allora Riccardo se sei d'accordo faccio un'ultima domanda a Luca poi chiuderemo noi lo lasceremo libera e Luca io ti volevo dire questo tu hai fatto veramente nonostante tu sia sempre giovane è un un bel un bellissimo percorso partendo da preparatore oggi sei un general manager eh prima eh Riccardo sottolineava le qualità di Max Pedersen però diciamo che è tutto il movimento danese che veramente sta andando molto bene a volte si dice in in Italia mancano le squadre Voltour non mi non mi risulta che ci sia una squadra danese Voltour credo che forse c'è una politica federale giusta e opportuna che poi raccoglie frutti per quanto riguarda il discorso di una squadra italiana io credo ho letto delle affermazioni di Pozzato che ha parlato di numeri importanti e anch'io davanti a quei numeri insomma non la vedo facile tu un paio di anni fa ti sei accostato uno sponsor italiano eh però insomma quei numeri 40 mila 40 milioni di euro l'anno ci vogliono veramente o una politica veramente di governo per lo sport oppure quelle figure di capitalismo che che in Italia non esistono più cosa ne pensi tu? Eh belle domande abbastanza complesse faccio una sintesi a mio parere il ciclismo danese in questo momento sta avendo dei risultati enormi innanzitutto perché in Animarca la bicicletta è utilizzata come mezzo di trasporto da da quando sono bimbi le città sono piene di ciclabili quindi è chiaro che più il volume di persone che va in bicicletta è elevato più gente poi vede magari la competizione come una finalizzazione dell'utilizzo della bici di conseguenza eh aumentano i volumi di di atleti da cui poi eh selezionare i talenti in questo la federazione ha sicuramente fatto un programma giovanile e quando parlo giovanile mh parlo credo fosse intorno al duemila e dieci che hanno fatto questa politica di supportare gli atleti di livello internazionale dalla categoria juniors in poi come nazionale e quindi partecipare alle coppe del mondo con assiduità cercare di farli crescere dare a disposizione eh tutto quello che poteva essere la la conoscenza degli elementi all'interno della federazione ai ragazzi e questo ha portato dei risultati così come lo sta portando in Slovenia quindi questi paesi diciamo che non hanno una popolazione elevatissima ma che hanno una popolazione che però fa del movimento una una base solita in Danimarca vanno in bicicletta come in Olanda in modo in Belgio in modo eh consistente eh in Slovenia fanno otto ore di educazione fisica settimana obbligatorie quindi stiamo parlando di volumi di movimento obbligatorio eh già eh in siti del DNA dei bambini mentre da noi Spagna, Francia, Italia eh stiamo andando nella direzione opposta dove comunque cominciano a diminuire in generale i volumi dei ragazzi che fanno sport e quindi questo nel nostro sport che è anche uno dei attualmente uno dei più costosi dei più complessi difficile per la società di base perché sono tutte basate sulla sponsorizzazione privata ovviamente crea dei 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 problemi delle limitazioni abbastanza abbastanza sostanziali detto questo eh l'esigenza o meno di una squadra World Tour è vero che in Danimarca non c'è ma di contro hanno un movimento di base abbastanza abbastanza ampio ehm credo che uno dei delle differenze sostanziali sia che in Italia noi già a livello giovanile abbiamo l'esigenza di vincere mentre all'estero sono ancora con la mamma e il papà che portano lo juniores a correre con la bicicletta che capita e come viene viene perché è uno sport eh che tu giochi a pallone a palla a volo fai bicicletta per me è uguale basta che fai qualcosa da noi invece mi è capitato in andare ultimamente a qualche corsa questo concetto sta gradualmente scomparendo vai alle corse e devi vincere devi fare il risultato perché se no non trovi squadra non c'è posto e se non finisci le corse è meglio che smetti queste cose qua cioè non abbiamo più il concetto che vado in bicicletta fino che ho 22 anni perché al mio sport mi voglio divertire così come a pallone gioco in quarta categoria a 40 anni perché mi va di divertirmi eh l'altro lato della medaglia che a me piacerebbe ci fosse una squadra world tour italiana ci ho provato per tempo così come ci ha provato Cassani ci hanno provato altri eh manager che tuttora stanno stanno lavorando nel ciclismo è chiaro che non è una necessità assoluta però è anche vero che se ci ricordiamo i tempi di quantomeno di lampre e liquigas i migliori italiani magari non tutti perché qualcuno andava lo stesso all'estero ma la maggior parte avevano uno sbocco nel professionismo diciamo una linea guidata quindi il sogno lo vivevi in casa attualmente bisogna per forza andare per forza andare all'estero e già vuol dire che c'è una diaspora e se parliamo di talenti sicuramente i talenti trovano posto ma è anche vero che c'era tutto un livello più basso di ottimi corridori che trovava sbocco nelle squadre italiane ad oggi questo gradualmente scomparirà perché per il semplice motivo che se la squadra di proprietà tedesca piuttosto che americana piuttosto che cinese a fronte di un gregario di livello medio alto italiano o tedesco prende il tedesco e quindi gradualmente il movimento si impoverisce se non hai una squadra di riferimento e alla base non hai un movimento elevato di numeri elevati di ragazzi che passano gradualmente nelle categorie concludo dicendo che attualmente il ciclismo è diventato uno sport dispendioso cioè nel momento in cui tu ti trovi a competere con squadre che hanno uno supporto statale o parastatale dove gli investimenti arrivano a 40 50 milioni o hai quei soldi perché parliamo di professionismo quindi inevitabilmente l'aspetto finanziario fa la differenza o comunque è davvero complesso competere e in italia ad oggi pensare a un'azienda che possa mettere senza supporto statale piuttosto che di defiscalizzazione della sponsorizzazione non sono un esperto di economia ma un sistema che che crea un vantaggio reale a sponsorizzare una squadra che non sia semplicemente la visibilità in televisione trovare 40 milioni o ma fossero anche 25 la vedo veramente veramente difficile per cui lo sforzo a mio parere deve essere da tutti e due i lati dal punto di vista federale un investimento nelle politiche giovanili smodato smodato e dall'altro lato cercare dal punto di vista invece posso parlare di coni di livello di ministeri e quant'altro di trovare le risorse per avere comunque una squadra faro perché comunque il ciclismo in italia ha sempre fatto parte della cultura italiana da binda girardengo coppie bartali fino a a a a ai ragazzi che si sono adesso in gruppo e per cui bisogna lavorare da tutti e due i lati altrimenti il rischio per come sono i regolamenti adesso probabilmente non ho sentito l'intervista di pippo ma credo che vada in quella direzione nell'arco di cinque anni eh quando anche le wild card ai grandi giri saranno vietate alle squadre fuori dalla top 30 nella classifica mondiale rischiamo che andiamo al giro d'italia dove non ci sarà nessuna squadra italiana nemmeno quelle le professional e di conseguenza avremo un grandissimo evento fortunatamente grazie a rcs ma di contro ci saranno solo degli atleti italiani non ci sarà più nessuna squadra di matrice italiana è un problema bisogna fare una puntata apposta su questa cosa qua no una cosa sì o no eri sei favorevole al tetto massimo quello come dicono o o invece hai un'altra idea sì o no lo contrario perché tutti gli sport professionistici dove esiste un budget cap o un salary cap eh hanno come modello d'affari la il punto uno è che condividono eh gli introiti dei diritti televisivi o dei diritti commerciali in generale finché il ciclismo faccio un discorso super cinico finché io trovo i soldi per farmi lo stipendio non capisco per mio dello staff dei corridori non capisco perché l'usei debba limitarmi non dandomi in cambio esattamente nulla è chiaro che si interrompo ma allora chi l'ha votata sta roba perché guarda che è una se parlo io ho parlato un po' in giro con manager scusami roberto ma questa è una cosa no no è interessante interessante io ho parlato con alcuni manager e non sono assolutamente nessuno d'accordo su questo eh salary cap o la realtà dei fatti la faccio breve perché ci vorrebbe una puntata intera il concetto di di cap funziona nel momento in cui io vedo che c'è una disparità nella prestazione sportiva no quindi ho una squadra x che vince sempre solo loro quindi viene meno interesse dal punto di vista eh dell'audience che guarda la partita di conseguenza gli sponsor che supportano eh i diritti televisivi vanno a calare ok quindi nel momento in cui tutte le parti coinvolte capiscono che c'è questa disparità è interesse di tutti che la parità venga riequilibrata perché riaumenta l'audience riaumentano gli investimenti dei diritti tv e tutti dividiamo più soldi ok questa è la base di tutto ma la televisione però non la non c'è è quello in questo in questo quadro le squadre non dividono nulla quindi la disparità eh che ci sia o non ci sia a me non cambia esattamente nulla perché comunque i miei sponsor li trovo per gestire la mia squadra e per dare visibilità ai miei sponsor in un modo o nell'altro che poi sia tutto relegato alle vittorie alla partecipazione piuttosto che a chissà che cosa eh è a beneficio mi spiace dirlo ma degli organizzatori punto e dell'usei eventualmente quindi eh questo sistema di cap funziona nel momento in cui tutti abbiamo questo tipo di interesse e non e chiaramente abbiamo interesse anche noi avere una parità ma allo stesso tempo non capisco perché se si fanno i budget cap i salary cap e si viene a mettere le mani nel portafoglio perché allora non fa la stessa cosa con gli organizzatori eh o con gli altri stakeholder come li chiamano adesso eh che partecipano al sistema quindi mi sembra sinceramente una cosa a discapito delle squadre nel modo più assoluto eh da chi è venuta non lo so ma credo che l'usei si rifaccia probabilmente a qualche voce degli organizzatori a qualche dato tv che probabilmente è calato. Lo dico io da chi è venuta perché purtroppo siamo in preda e in mano alla Francia e con questo non voglio fare nomi perché così almeno non prendo querele eh Roberto credo che questa sia una puntata da affrontare in un in un inverno magari al caminetto magari chiamando anche altri manager come come Luca eh e poi questa è la mia visione sicuramente qualcuno avrà anche io la la tua visione la la condivido lo sai perché ne abbiamo parlato comunque eh la condivido a pieno è veramente una cosa lo dico io non lo dici te è demenziale eh Roberto a te la conclusione liberiamo a me la conclusione è presto detto basta organizzarsi e non voglio approfittare più di tanto della presenza di Luca né ora né dopo ma è chiaro che se dovessimo organizzare qualcosa del genere non potremmo farla senza Luca anche perché ripeto sempre stando un pochino anche in un ambito più contenuto alla la luce di quanto ha spiegato Luca di quanto analizzato io per quanto riguarda anche il movimento nazionale eh Riccardo non mi voglio trovare sempre poi a primavera o estate a cantare ma che freddo fa intendendo proprio a livello risultati e qui per stare in tema di scatto e stacco quindi ringrazio l'eterno mio compagno di viaggio Riccardo Magrini e ringrazio Luca competenza e disponibilità grazie per la tua infinita generosità grazie Luca per essere stato con noi grazie a voi un abbraccio ciao grazie